Alla vigilia della 73esima edizione del Festival di Sanremo, l'acquermenso musicale più attesa degli italiani, come accade ormai da 11 anni, si è svolta la serata dedicata alla consegna dei premi Numeri 1 Città di Sanremo e Dietro le Quinte, evento ideato da Ilio Masprone e divenuto ormai la vera e propria anteprima del Festival di Sanremo. Questi riconoscimenti, realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, vengono ogni anno assegnati da una giuria di qualità. A condurre la serata il giornalista e scrittore Marino Bartoletti e la giornalista di Rai 2 Luana Ravegnini. Quest'anno il premio Numeri 1 Città di Sanremo è stato assegnato a Giorgia, una delle voci più importanti della musica italiana. L'opera raffigura una palma affiancata dal numero 1, nel quale sono stati incastonati un fiore in argento ed un topazio azzurro che simboleggiano i fiori e il mare della città di Sanremo. Nel corso della serata sono stati anche consegnati i premi dietro le quinte. Queste sono sculture composte da una D e da una Q stilizzate, poggiate su di una base, su cui è applicata la targa che riporta il logo della manifestazione e il nome del premiato. L'opera è stata realizzata da Affidato e viene conferita da artisti ed addetti ai lavori che si sono resi protagonisti nei momenti più salienti della storia del Festival, valorizzando anche alla musica italiana nel mondo. Quest'anno a ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati Maurizio Salvadori, manager dei grandi artisti, tra cui Giovanotti, Paolo Pezzolla, promotere ufficio stampa di grandi artisti, Pippo Balestrieri, storico direttore di parco del Festival di Sanremo, Toni Verona, discografico, e Vincenzo Russo Lillo, patrono di Casa Sanremo. Inizia così una settimana intensa per l'orafo Michele Affidato, che anche quest'anno, tra i tanti riconoscimenti, ha avuto il compito di realizzare il premio della critica Mia Martini ed il premio Sala Stampa Lucio Dalla, che saranno assegnati nella serata finale del Festival. Sala Stampa Lucio Dalla. Sala Stampa Lucio Dalla.